Grazie Maso, grazie a voi. Io vi ho portato quello che per me è un cimilio. Questa bandiera era con me e con altri pacifisti un mese prima della seconda guerra del golfo a Baghdad. Nel 2003 l'abbiamo portata e in quel momento dicevamo che la guerra non sarebbe stata la soluzione. Dopo dieci anni siamo qui tutti insieme a capire, a vedere, a toccare purtroppo ancora una volta con mano che la guerra e la violenza non è stata la soluzione.